Benvenuti a tutti sul mio canale, io sono Nancy e oggi parliamo di... Nella puntata di Uomini e Donne andate in onda oggi abbiamo visto Cristina e lacrime dietro le quinte. La donna infatti sembrava veramente molto provata per quanto accaduto. Ha lamentato il fatto che Alessandro Vicinanza non sarebbe uscito con lei dal programma. Sono rimasta molto delusa, ammesso. Alessandro poi ha spiegato di aver provato per lei delle farfalle nello stomaco solo in determinati giorni nei quali si sono trovate a stare insieme. Non sono così interessato come credevo di esserlo. Lei dunque ha sostenuto di voler chiudere definitivamente la storia con lui. Ve lo confermo, per me si chiude qua. Cristina poi ha continuato a dire di non aver apprezzato tutto quello che ha detto Alessandro. Per me o hai finto o il tutto è svanito. Potevi anche dirlo prima, ha detto al centro dello studio. E voi che ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti.